Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo. Invito tutti i capi delle Chiese e il leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni a invocare l'Altissimo Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù, nostro Signore, ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Tutti insieme.